Buongiorno, continuiamo a vedere, anzi spero di finire oggi, adesso vediamo quanto viene lunga, MySQL che è, quindi, se avete visto l'introduzione dell'altra volta, un database come Access però molto più, diciamo, diffuso, utile per le applicazioni web, anche le applicazioni del cellulare perché si può interfacciare con varie piattaforme, non è come Access che è pensato soprattutto per essere usato di per sé, stand alone anche se qualcuno lo usa per siti web, tra cui io da piccolo però, ero piccolo e inesperto allora, MySQL, quindi si può installare XAMPP, se volete, se riuscite MySQL faccio admin, faccio partire due servizi Apache, MySQL, admin, su MySQL mi parte, quindi questa interfaccia che abbiamo visto l'altra volta questa è una delle possibili interfacce di MySQL, non è per forza l'unica, potete crearla anche voi, però è un po' complicato per voi quindi, abbiamo creato l'altra volta classi quarte creiamo una tabella a sto punto facciamo la tabella solite cose, dai, facciamo tipo film con quattro colonne go qua sembra un casino, ma non preoccupatevi, è molto più semplice quanto pensiate allora, nome della colonna, facciamo l'id, ricordate con access a bei tempi, sì allora, l'id lo mettiamo intero, sì, perché non c'è qua l'auto coso, cioè sì, dovendo dirglielo staccato quindi il tipo è intero eppure c'è Varchar che è una specie di, sì, sempre testuale, text sempre testuale, data sono un casino di tipi qua dei 10 time string spaziali mai usati questi? Ah, json, vabbè e, vabbè, allora lasciamo solo int default potremmo mettere current timestamp come default, però in questo caso non ha senso, cioè l'orario e la data correnti da qualche parte ci vorrebbe essere index primer, eccolo qua quindi cosa vuol dire? in realtà come mettevano la chiave primaria in access, diciamo che questa è la chiave primaria ok tutto molto logico quindi questo è un id è un numero che dice ok questo è la chiave primaria della tabella ai vuol dire non artificial intelligence in questo caso ma auto increment perciò si incrementa da solo come in access quindi lo facciamo come quello commenti si può mettere anche commenti chi se ne frega ok, l'importante sono queste cose qua poi mettiamo magari nome del film varchar ah si può mettere la lunghezza c'è un tipo 10 10 caratteri massimo default niente collation ah il vabbè il tipo di di encoding perché la chiamo collation attribute no index no 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 ok poi commenti si può mettere come in access non lo so nome del film durata quindi ovviamente lasciamo in int facciamo in minuti si quindi magari nel commento mettiamo durata in minuti nel film e poi l'ultimo magari mettiamo ma la data mi sa che fa così volevo tenerlo semplice perché infatti abbiamo fatto già il data business in access però in SQL vogliamo vedere più che altro la facciamo così vogliamo vedere categoria dai le query come si fanno qua perché non è come in access che puoi cliccare e farlo in automatico ma c'è un linguaggio apposta che è semplice le SQL categoria mettiamo varchar dai sì anche se sì ok allora qua faccio save valid length ah già categoria ovviamente anche qua massimo 10 ok mi ha creato le quattro colonne queste sono le colonne questa è la struttura mi sono state una struttura come in access poi io vado in SQL ok non c'è ancora dentro nulla facciamo insert allora valore dell'id vabbè lo mette lui l'uno nome Harry Potter durata no dai serie cos'è fantasy ok se voglio mettere altre colonne c'è altre righe scusate sono righe queste prima riga altra riga facciamo go warning one mi ha fatto una warning ok però va bene mi ha troncato il nome perché ho messo massimo lunghezza 10 è poco 10 pochissimo 20 non ci sta Harry Potter in 10 ok quindi me l'ha troncato adesso dovrò modificarlo e sembra un casino ma poi è semplice quando uno Harry Potter ok fantastico qua mettiamone un altro id lo mette in automatico lui nome mettiamo signore e c'è tastiera nuova eh sì sempre colpo la tastiera bla 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 un casino fantasy questo veramente ok no Martinson warning non mi ha troncato niente vedete che l'ha preso tutto nonostante sia anche più lungo adesso ho messo 20 caratteri certo se ho oltre 20 non ci sta posso anche mettere 1000 non c'è problema però è importante dire la lunghezza perché lui deve salvarsi tot byte su disco fisso invece Axe fa tutto da solo però di contro è più pesante deve capirlo quanto è lungo eccetera allora faccio vedere solo una query semplice magari mettiamo un altro film mettiamo nome fast and furious durata 8 minuti categoria da marri ok adesso browse perfetto abbiamo i nostri 3 film io voglio vedere tutti i film da categoria fantasy poi ovviamente sarebbe da creare un'altra tabella collegarla a quelli di esterno fare tutto il magheggio che abbiamo fatto anche in Axe però voglio solo far vedere la query sequel allora se io scrivo select si vede send me good allora va bene non posso ingrandire qua mi sa select asterisco vuol dire seleziona qualsiasi cosa dalla tabella film from film where 1 vuol dire va bene tutto quindi se faccio go escono tutti e tre quelli che uscivano anche prima ma io voglio vedere where genere genere l'ho chiamato uguale a non il doppio uguale fantasy adesso vediamo quanti errori mi dà perché esatto dovrei mettere le virgolette però a volte vuole le virgolette singole bla 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 ok ah non gli piace genere categoria ho messo mica genere where categoria uguale a fantasy go wow vedete che la categoria ha preso quella che volevo io ci ha messo nove decimi di millesimo di secondo vabbè quasi un millesimo di secondo ok e quindi capite che se arrivano anche milioni di query al secondo riesce comunque a gestirle non come il sito dell'Inps che è caduto subito quando ha fatto quella cosa della richiesta dei 600 euro per i libri professionisti non come sto la zecca che appena l'hanno riaperto subito down e purtroppo vanno giù i siti appena la gente si collega in troppi e facciamo tipo SQL where categoria è semplice categoria non bisogna neanche mettere il doppio uguale perché qua non c'è differenza tra singolo uguale e doppio uguale come in C c'è solo l'uguale cioè se categoria corrisponde a quello allora quindi se categoria risponde a cosa che ho messo tamarri allora go fast and furious perfetto se categoria devo fare modifica però categoria uguale a ciao non esiste la categoria ciao tra quelle che ho messo quindi c'è niente edit dovrebbe farmi esatto modificare quindi rimetto fantasy yeah yeah that's right funziona ok 25 righe alla volta tanto non ci arriverete mai e quindi faccio edit mi fa modificare questa query quindi già va bene queste sono mi sembra anche con gli apici normali sono degli apici strani di linux no a me non gli piace devo mettere o le doppie virgolette poi ogni versione di SQL cambia il modo ups in cui bisogna scrivere la query quindi o non metto nulla e vi consiglio non mettete nulla e le tabelle non fate mai 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 gli spazi nel nome della tabella ok film attori registi non film di quest'anno a parte che non ha senso il di quest'anno però non cioè staccati con caratteri speciali non spazi perché se uno ha lo spazio nel nome della tabella allora deve mettere l'apici di linux che si fa mi pare con alt gr no con alt e non c'è neanche in windows mi sa nella console di linux si può fare con alt gr più l'apice ti fa con l'apice strano che c'era prima però voi lasciate perdere e non mi ha salvato il coso così funziona qua mettete i doppi apici per la categoria cioè per il nome della categoria ok anche i nomi delle colonne non mettete mai lo spazio lasciate solo dei nomi così tutti interi e poi il nome della categoria qua dentro mettete tutto quello che volete tutti gli spazi che volete basta che ci sia poi di là o che ci sarà in futuro perché se no se non c'è quella categoria che senso ok questa è la cosa base poi mettiamo magari che io anziché vedere tutto lì di la durata la categoria voglio solo vedere la durata dei film fantasy allora facciamo edit where categoria fantasy select durata così io seleziono solo la durata da questa tabella dove la categoria è fantasy guardate vedo solo le durate durate in minuti che è il mio commento dei film fantasy vedete fantastico quindi questo qua mi dice seleziona solo la colonna durata dal film e se voglio titolo e durata faccio titolo virgola durata titolo non c'è nome perché metto cose mi dimentico allora nome virgola durata where categoria col tab si autocompleta uguale a fantasy ok perfetto nome e durata senza l'id che tanto non frega niente l'utente frega solo nome e durata si può anche salvare da qualche parte ok intanto già sta cosa qua è interessante poi su v3 school dovrebbe esserci comunque un sacco di roba su allora sql tutorials learn sql eh esatto qua vi fa la prova anche qua il problema è che qua non avete si può vedere anche qua gli esempi ma non avete il database cioè c'è già sotto un database fatto da lui questo qua e voi potete provare a usarlo però preferisco crearmelo io come ho fatto con msql con si con samco ok c'è l'ur cosa spiega cos'è quindi iniziate vabbè dovreste averlo già capito iniziate a capire bene a segnarvi questa roba qua del select seleziono le colonne da quale tabella intanto ne ho solo una quindi ok dove la categoria è uguale a questa quindi dove una delle colonne corrisponde a un certo valore va bene e qui noto che avete capito questa poi dai la prossima volta facciamo un quarto d'ora facciamo così magari spezzo sì dai no perché vorrei farvi fare anche un progetto se no facciamo così vediamo anche subito facciamo così vediamo anche la group by no però diventa complicato tutto insieme no allora inizio a guardarvi quindi questa cosa qua select where è tutto poi la prossima volta faccio un altro video magari prima di venerdì prossimo in settimana in cui spiego qualcos'altro di MySQL e poi voi subito dovrete fare una cosa velocissima su MySQL un compitino da consegnare proprio veloce corto una sola query come queste un po' più complesse di queste e poi le correggerò darò il voto però con calma la prossima volta intanto iniziate a guardarvi queste robe qua iniziate a capire chi vuole installa XAMPP chi riesce sul suo pc e provate boh buttarci un po' le mani vedere un po' come funziona è complesso da conoscere tutto si può anche esportare i dati importare da altre cose da Excel da tutto i triggers si può far trigger al DB e niente dai alla prossima ciao